Capitano della New Team riesce finalmente a toccare la palla. Avanza velocemente verso la porta avversario. Quanto diavolo è lungo questo campo? Stiamo correndo da tre ore. Olli, non ce la faccio più. Top! Fra tre chilometri, superata quella collina, dovremmo essere nei pressi dell'area di rigore. Entro fine puntata, dovremmo arrivarci. Olli e peggio, franconissimi. Mark, ti batterò. Non ho paura di te. Atton, con il mio tiro della tigre, vincerò la partita. Mark, tirati giù le mani che ti amano, che ti puzzano le ascelle. Forza Oliver, devi credere in te. È già arrivata tua mamma. Oh sì che è arrivata. Avanza ancora Atton! Newbie, 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 newbie! Forza Olli, sei il migliore! Forza Olli, fai gol! Fai gol nella mia porta. Fermiamoli ragazzi! I giocatori della Muppet si avvicinano sempre più ad Atton. Ti fermerò Atton! Atton porta avanti ancora indisturbato la sua azione, anche se vediamo che la Muppet sta rientrando per cercare di fermarlo. Sanders torna verso Atton e interviene sulla palla. Lo ferma l'Enders e si dirige verso la porta del saggio. Bravo Mark! Fagli assaggiare il tiro della tigre! Bryce, prova a prendere questa! Enders è davanti alla porta, si prepara a finare! Forza che aspettate, fermatelo! Forza che aspettate, è due ore che sta caricando quel tiro, forza! Lo fermerò io! No, Bruce! Oh no, l'ho mancato! Sei la solita mezza sega! Bruce, sei la solita catastrofe! Forza Mark! Distruggili Mark! Tiro di Landers! Rai da immobile! Forza Benji! Siamo con te! La prenderò! Non segnerà i Landers! Rai separa stupendamente il tiro di Landers! Dannazione, la parata! Gli venisse un infarto! Giulia, no! Di nuovo! Il mio cuore! Benji è stato bravissimo a parare il tiro della tigre di Mark. Ora io non dovrò essere da meno. Tocca a me portare in vantaggio la New Team! L'incontro è molto combattuto e le due squadre non si stanno certo risparmiando. Tua mamma si fa sediglio! Si fa sediglio! Tua mamma si fa sediglio! E ogni loro sacca una mamma è due papà! Due papà! Due papà! Maledetti tifosi della Muppet! Cercano di distrarmi con queste maldicenze! Ma io non ci credo! Vero Roberto? Roberto, dove sei? Mamma! Quando torna suo marito dalla crociera? Spero più tardi possibile. Grazie per tutto quello che sta facendo per mio figlio. Ci mancherebbe. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Il calcio giapponese. Ragazzi se vi è piaciuto il video mettete like. Vogliamo almeno 100.000 like per un nuovo episodio. Seguitici su YouTube e iscrivetevi al nostro canale. Roberto! I autogol! I auto gool!